e bentorni a casa mia e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi sono finalmente, sono partito la mattina non sono riuscito a registrare il pezzo dove sono arrivato, arrivavo da casa mia ma purtroppo perché il telefono c'avevo l'altro telefono che era scarico e niente ne sono caricato, ci sono, siamo a Bologna siamo a Bologna, siamo a Bologna e stiamo per andare a incontrare Pepnoid per la prima volta sto andando alla stream house e niente raga, è un'ambizione enorme, non so, adesso mi sto perdendo ragazzi perché non so da dove cavolo salire, che dovrei andare sopra e niente raga, è difficile come è il sito adesso ci mettiamo da qualche parte, vediamo di metterci da qualche parte un attimo e si chiacchiera ok, raga mi manca l'inspiro, mi manca l'inspiro ragazzi perché c'è un bagno qui, vediamo un attimo di andarci e andare in bagno, e se riusciamo un attimo a campire un attimo, devo calmarmi ragazzi perché è da tantissimo tempo che non vedo, vedo tec, questo è, ma what the fuck, è dire raga, no ma è, però è maschi, è maschi, what the fuck è maschi chiuso, no vabbè, vabbè, non ci credo, vabbè, niente, raga, andiamo sull'ascensore, andiamo l'ascensore quindi ragazzi, è indescrivibile quello che è indescrivibile, l'emozione che provo, che provo in questo momento qua e penso che, penso che la mia vita sta per cambiare totalmente, sta per cambiare totalmente ovviamente è un progetto che volevo fare da tantissimo, lo sapete che già da 5 anni, 6 che io e il tecnologico stavamo pianificando di fare la cosa della stream house e della stream house e di stare insieme, di poter fare i vlog insieme lui attualmente è riuscito a fare la stream house 1.0, io, io purtroppo, no vabbè, questo mi sta portando giù, non ci può scrivere, guardate io come ci salgo sopra, questo non ci va sopra io si, per Dio mi ha portato questo mamma mia vabbè, peccato come dicevamo prima, è un progetto che lui ha fatto tantissimo tempo fa ha fatto la stream house 1.0, non ha fatto la 2.0 la 1.0 c'è potuto essere poche tempo, quindi non c'ho potuto essere tutto il resto del tempo perché purtroppo, purtroppo, c'ho avuto delle cose da risolvere, e cavoli, e mazzi finalmente, nella 2.0, quando l'hanno creata, c'è stato quello che c'è stato ci sono stati un determinato di persone, eccetera, eccetera io purtroppo c'ho avuto dei problemi da risolvere, quindi non vi sto neanche a spiegare tutti i problemi perché non ha senso, sicuramente è possibile spiegarvi ogni cosa ma il senso, il senso è un altro il senso è potervi portare dei contenuti in questo canale che non siano sempre deprimenti, che sono dei contenuti spau pau, andarne fuori da adesso in poi non ci saranno più video in cui ci sarà tristezza ci saranno solo video dove si scherza e si ride si fanno i prank e tutto un'ambaladamba, ragazzi, di cose io vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale facciamo esplodere questo canale qua perché sono da 5 anni che c'ho questo canale ed è rimasto bloccato sempre ai 130.000 iscritti quindi io vi sfido a fare arrivare questo video qua ad almeno 5.000 like ok? ed iscrivervi al canale seguirmi su TikTok e seguirmi su Instagram perché queste piattaforme che vi sto dicendo in questo momento qua saranno le piattaforme dove ci sarà di tutto e di più ci saranno video prank ci sarà un devasto di cose quindi, ragazzi, vi ricordo che in questa stream house ci sarà solo bordello vi vedrete al Games Week vi vedrete dappertutto vi vedrete in tutte le fiere che ci saranno io e Tecnoed non ci separeremo più quindi io, ragazzi, adesso sono in agitazione sono molto agitato perché eh... aspettate mi fa un'altra mano vabbè è perché da tanto, tanto tempo che non lo vedo, ragazzi da tantissimo tempo che non lo vedo io, purtroppo, quando ho avuto dei miei problemi delle mie cose ci sentivamo terrificate con il telefono quindi... stare a... anni e anni mi è stato anni e anni dietro mi è stato anni e anni dietro mi è sempre stato vicino è stato un amico molto, 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 molto bravo con me mi ha sempre supportato e mi ha sempre aiutato quindi cercheremo di fare in modo che questa amicizia duri il più lungo possibile all'infinito e di potervi farvi divertire perché ormai abbiamo un'età quindi... siamo ancora giovani, non diciamo niente però... è importante è farvi divertire il più possibile che voi vi divertiate che noi ci divertiamo e che... tutti un po' sia il meglio ok? quindi in questo momento adesso andiamo a vedere, raga dove sia dove è Tocnoit dove è Tocnoit ok? poi vi racconterò con calma quando arriveremo a casa vi racconteremo vi racconto con calma in un posticino tranquillo tutto quello che sto provando e tutto quello che... le emozioni che sto provando in questo momento qua io attualmente voglio andare a vedere dove che cavolo è questo qua mi ha detto che è sopra in qualche parcheggio quindi sarà probabilmente da qualche parte qua quindi andiamo a vederlo intanto, raga, io mi sono rotto qua perché in quella città dove sto fa un freddo cane e basta adesso andiamo a vedere, raga lui raga, è là? andiamo a vedere è duro è duro è duro è duro è duro mamma mia mamma mia quanti anni oh io ti voglio bene lo sai mamma mia come stai al posto? bellissimo il ghiaccio? bellissimo che salto però ragazzi che flex ma anche io di brutto fondamenti siamo uniti adesso regalo Voi, 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 adesso non avete idea di quello che sta per succedere ragazzi, non avete idea di quello che sta per succedere Andiamo a casa? Andiamo, yes, Steam Mouse 2.0, let's go, andiamo E niente raga, sono col Tecnoid Finalmente, finalmente ragazzi, adesso, adesso finalmente possiamo dire che è iniziata la Steam Mouse 2.0 Finalmente possiamo dire che siamo al completo, è iniziata In questo video non devono vedere pazzini loro, niente, dovete iscrivervi al canale, mettere like E c'è anche il vlog di suo, raga, andiamo a vedere la sua reazione, che è molto importante Quindi, raga, rimanete sintonizzati, sintonizzati, sempre nel canale E niente raga, c'è un'emozione, adesso non riesco a parlare, capite? Non riesco a dire niente Perché sono agitatissimo, sono agitatissimo per il fatto che sono anni e anni che Purtroppo Tec, raga, è sempre da solo, senza di me Steam Mouse 1.0 è stato senza di me Ma è stato un mese Sono stato un mese, però in quel mese non ho potuto dare il meglio del meglio Però ho dato delle belle cose Però, adesso, vi posso promettere una cosa Che Mone non se ne va da nessuna parte più Non abbandono È finito tutto quanto, l'incubo E basta E non abbandono il mio bro Il mio bro, ci rimaniamo sempre insiemi Se fallisce il Strem Mouse, io vengo a dormire con te Tranquillo, tranquillo, quello non possiamo Oh, ma Balogna è come Dubai, fratello Balogna è come Dubai Mamma mia, fratello No, diglielo che sei arrivato, diglielo, diglielo, diglielo Fuori dal finestrino, diglielo Lo dico Ma che glielo lo dico Vai, vai Ehi, guarda che è arrivato Mone Ehi, oh, aspe, ah Gli sping, steppi Non hanno visto niente ancora Non hanno visto niente È uscito a Mone, Mone, ancora qui Sempre disponibili Ehi, YouTube, pronta Che ti faccio esplodere, YouTube Che non giuro ti faccio Andalo back Video bomba Bomba Te la guardo, se ne aspetta Salve Salve Buonasera Ehi, amore Ehi, quanto sul tetto io te lo dico Guarda che sono fuori di Ehi, questa cosa che mi tolgono la patente a me Oh, c'è un Old White West Mai visto Old White West Salve, signora Salve Non li riprendano, no? Poverimili Ma non lo sto riprendendo nessuno Poi c'è il loro consenso, io Ah, sì? Sì Perché questa continua a suonare? Perché non è la cintura, cintura, cintura Ci mettevo la cintura nata, ma, ragazzi Mamma mia Ragazzi, è Dubai, questo Uamerano, ve lo scordate, sta roba Guarda lì, cosa ne ho fatto Un nipolco, lì Mamma mia Mamma mia Salve Sera Io prendiamo quei film dove uno viene da un posto all'altro e impazzisce Guarda che altra scegli voi visti Non ho visto così tanti piani in vita mia Aiuto Aiuto Sera A Corogna Ti godevi la vita tu, eh? Ma, per me è normale questo È normale? È la normalità questa Oh, io vivevo in un buco In un buco Facevo due passi e arrivavo alla fine del buco Assurdo, veramente Guarda qua, non ci sono montagne Non esistono montagne qua Non è... Ti perdi Ti perdi? Ti perdi a Sabi O lei ti perdi? Guarda il cielo, guarda il cielo Ragazzi, vedrete dei vlog Delle robe incredibili, ragazzi Veramente qualcosa che non avete mai visto Qualcosa che non avete mai visto E ritorneremo, ovviamente A fare le sfide su Fortnite Ci stai? Capo, guarda che sono migliorato io Va bene, ma a me non importa se sei migliorato Vedremo poi, vedremo Poche chiacchiere e più fatti Vedremo, ragazzi Ma tu lo devi citare Ma allora, tu devi sapere che dal nuovo aggiornamento che hanno fatto È prima che Fortnite è cambiato, no? L'hai provato un po' adesso Un pochino, sì Ok, adesso Fortnite ha tolto tutte quelle mappe vecchie Tutte quelle dove c'erano i glitch, eccetera Ah, quindi non mi fregherai più Non c'è più Proprio, proprio non si possono più utilizzare quei bug, capito? Con l'uomo, Unreal Engine, tutte quelle cose sono sparite, capito? Ho capito Ho capito Ma il PC? Il PC tranquillo, frate C'è un PC, una postazione di che ti ho fatto Incredibile, qualcosa, frate Adesso tanto stai andando e la vedrai, no? Ti ho fatto una postazione, una roba che Guarda qua come Dubai stanno costruendo cose questi Qua si va sempre avanti, capito? Si va sempre avanti a costruire Mamma mia Ma sai che questa città non mi muovi più da qua io? Ehi, vabbè, ma tu guarda che ti devi proprio venire a trasferire qui Ma io sono già trasferito Posto, metti la residenza di Strimazio Fine del discorso Berlusconi, salve Adesso mi brusconi, salve Guarda qua, la Rai Eh, vabbè, vabbè, vabbè uscire da qua Fai, mi faccio vedere la Rai, madonna mia Oh, qua c'è la Rai, io sai Oh, ma che dè qua? Oh, c'è la Rai Te la so, mi è verano sta roba Guarda qua Questo è Dubai Ma che vado a fare Dubai? Guarda Dubai dov'è Neri, 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 neri Eh, ma ti perdi Rai, mai vista in vita mia una nella sede di Rai? Questa è una sede di Rai Una delle tante sede Ma qua cosa stanno costruendo qua? Questo invece è la zona fiera È dove fanno le fiere e tutto quanto qua Ma andiamo adesso? Qua è dove proprio ci sono le fiere E beh, adesso non c'è nessuna fiera, capito? Il Nerd Show a Bologna lo fanno qua Questa è tutta zona fiera Nerd Show a Bologna Oh, c'è Salvini, anche lui Salve Salvini Salve Salvini Buonasera E vabbè, niente raga Ci vediamo in Streamhouse Let's go Ragazzi, siamo ufficialmente nella Streamhouse E abbiamo Freud e Lee Au Guarda qua Eh, il mio brodi, dammi qua Ma che cosa Hai visto che cominciamo già adesso? Hai visto? Oh, tieni Tieni a base a tuo fratello tu, eh Io te lo dico Tieni a base a tuo fratello Guarda, guarda Vai, vai Oh, sei lontana Guardalo Ancora me l'ha fatto Vabbè Con te non parlo più, tu lo dico Ma si è mangiato tutti Se li ha mangiati tutti Teco, ma non va bene così, eh Bea, Bea, dimmi qualcosa Dimmi qualcosa Mangialo Vabbè Ragazzi, sono ufficialmente nella Streamhouse Qui abbiamo Il quadro enorme Niente Ragazzi, presto vedrete un bel po' di video Se volete vedere la parte Cosa c'è là dietro Cosa c'è là Ragazzi, qua dobbiamo arrivare a quanto Tecnoi? Minimo 5.000 like Tu cosa dici? 5.000 like Subito, subito, ragazzi Sponeggiate, sponeggiate 5.000 like 5.000 like Mi fai il tour Una volta che hai completato Tutta la stanza come la vuoi tu Perché adesso io vedi che te la farò vedere, ok? Ok Con tutta la personalizzata come vuoi Magari dipingi di verde Non so, fai tu Mamma mia, mi sono venuto in mente delle idee Wee Bro, lascia stare Lascia stare Niente, ragazzi Scrivete giù nei miei commenti Cosa ne pensate di questa Mia entrata nella Streamhouse Cosa ne pensate della Streamhouse E niente Ci vediamo al prossimo video Prossimo vlog Con la stanza da gaming La Streamhouse